Motivo del contendere l'aumento delle spese militari, passa comunque senza problemi in Senato il DL Ucraina. Il punto sulla settimana politica italiana di Antonello De Fortuna e Francesca Bigliotti da Roma, il M5S e Giuseppe Conte in particolare puntano i piedi contro l'aumento delle spese militari. Non è proprio il momento, dicono, e questo crea notevoli tensioni all'interno del governo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, intanto, ha incontrato i giornalisti della stampa estera. Dopo essere stato riconfermato leader del movimento, Giuseppe Conte ha voluto incontrare Draghi davanti alla stampa estera. Il presidente del Consiglio è apparso serafico, poco prima il Senato gli aveva votato la fiducia sul decreto ucraina con 214 voti favorevoli, 35 contrari e nessuno astenuto, e ha spiegato il retroscena dell'incontro con Conte, specificando che, ad oggi, non c'è nessun problema, in seno alla sua maggioranza. Infine, sull'inflazione che galoppa, nel video le interviste a Giuseppe Conte, leader M5S, e Lucio Malan, senatore Fratelli d'Italia, e gli interventi alla stampa estera di Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano. Grazie a tutti!